Sono Eleonora Pintos, make up artist a Milano. Ogni giorno lavoro con donne di tutta l'età. È l'unico prodotto che mi dà grandi soddisfazioni per eliminare borse e rughe è Pinkfluid. Un prodotto che mi permette di truccare serenamente l'occhio della mia cliente perché non stratifica e agisce in soli tre minuti. Grazie Pinkfluid!